Questa cosa che praticamente abbiamo tradotto dall'inglese all'aretino, che quando uno fa uno uno stop, cioè uno fa uno stop perché è come un fans, ma se ce n'hai più di uno sono stoppi, mentre se fai uno stop ti dico che la battuta è troncata, invece di fare un quattro hai fatto un tre, un tre e quattro, e poi dicevi l'altra cosa anche interessante, l'altra cosa interessante è che c'è la scanzione degli ottavi che è il fitto, oppure lo può suonare anche meno fitto, detto anche più rado, sennò c'è il fitto maio che sono i sedicesimi e il tritello che sono i 32. Tritello dice anche che è una cosa di più etrusca, come il petrischio, da Ternia Cortona, il petrischio che è un po' più fitto, un po' più trita, il 32. Vuoi dire qualcosa? No, vuoi dire qualcosa? Vediamo per questo cornellino, sono a Bacca D'Anno e sono contento di esserci, un saluto e ai Ballantyne.